Siamo mamme, operatori sanitari, diamo la nostra vita per questo lavoro. Non ce la facciamo più, sono 17 anni, basta! Vogliamo dignità! Si sono mobilitati raggiungendo in massa la sede dell'azienda sanitaria di Via Nizza Salerno per partecipare ad un'assemblea pubblica. Chiedono cautele e chiarezza gli oltre mille lavoratori impegnati con due mansioni per i servizi di pulizia, sanificazione ed ausilariato negli ospedali, distretti e strutture sanitarie dell'Asl della provincia di Salerno, da Sapri a Scafati, assunti dalle aziende che operano per l'Asl, Ariete e Dusman con due contratti diversi. I sindacati da tempo sono in attese di notizie certe, circa l'imminente aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia, sanificazione e ausilariato, ma ad oggi nessuna notizia dalla direzione generale affinché si possano unificare i due contratti. Con il cambio della dirigenza tutto sembra fermo, così a gran voce stamani. Alla base delle contestazioni che ha visto dinanzi alla sede dell'Asl un cospicuo numero di lavoratori c'è la vicenda legata all'espletamento della gara d'appalto. Numerose sono le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che hanno alimentato preoccupazione tra i lavoratori impegnati sull'appalto. Sono un appalto che nasce nel 2014, bensì sono lavoratori dal 2005, ma nel 2014 gli stessi operatori dal commissario Bartoletti furono spacchettati. Cosa vuol dire? Lo stesso lavoratore fa due mansioni con due aziende, due CUD, cioè immaginate che difficoltà. Tutti, tutti ci hanno detto che bensì accettavano la gara unica. La gara unica è stata fatta e poi è stata bocciata. La gara è stata svolta all'Otti, ci troviamo una conclusione finale per accorpare i servizi. Ci eravamo riusciti con la gara unica. D'accordo tutti, la tuttoressa Caterina Polino, ex dettore amministrativo, dichiarò in un'assemblea inizio luglio che la gara entro massimo fino ai mesi di luglio veniva giudicata. Questo vuol dire che la gara era completata. Abbiamo raggiunto lo scopo, la dignità lavorativa. Qua parliamo di quasi 1.100 lavoratori dell'AS Salerno, non è che parliamo di 100 lavoratori. Oggi, questo è successo, voci di corridoio ci dicono che addirittura quella gara che era giudicata era terminata, bensì mi sembra è tutta una bufala, potremmo essere inceppati nella CONSIP. Cosa vuol dire la CONSIP? Ritornare come stiamo con due aziende, con due CUD e rimanere, anzi si andrebbe a peggiorare. Improvvisamente veniamo a conoscenza, perché poi l'ente pubblico non è stato neanche così chiaro e la chiarezza la chiederemo oggi, se è vero o non è vero che si farà o meno la gara unica. Noi questo chiediamo. Chiaramente è ovvio che dopo quattro anni di aspettativa, e il grido della signora di Pocanzi la dice tutta, dopo quattro anni di aspettativa, dopo quattro anni di battaglia, se ci dovessero dare delle indicazioni differenti è chiaro ed evidente che l'organizzazione sindacale prenderà i dovuti provvedimenti. È la richiesta di avere chiarezza sul futuro di questi lavoratori che sono appesi alle decisioni della direzione in merito all'esito delle gare che riguardano il servizio di pulizia e ausiliariato, soprattutto per poter mettere fine a una situazione assolutamente difficoltosa e oberante per i lavoratori che è quella di avere un doppio contratto. Quindi abbiamo la necessità di ribadire al nuovo direttore generale perché c'era l'esigenza della gara unica che riunisse i servizi, sia per un'efficienza, sia per liberare i lavoratori da un eccessivo aggravio anche fiscale.